Quale futuro per lato Calat Ambiente? E questo è il tema di una tavola rotonda che si è svolta nella giornata di lunedì presso la sala consigliare del comune di Granmichele alla presenza di 5 sindaci del Calatino nella fattispecie Granmichele, Vizzini, Licodia, Mazzarrone e Sancono e i rappresentanti sindacali della CGL con i delegati territoriali nella figura di Brigadeci delegati provinciali con Francesco D'Amico e regionali con Michele Pagliaro e con la presenza provinciale di Angelo Villari Per il comune di Granmichele, oltre al primo cittadino, presenti anche l'assessore all'ambiente Amaru il vicepresidente del Consiglio Giandinotto e i consiglieri Barone e Sciret Presente anche l'onorevole Concetta Raia che esprime la piena e fattiva collaborazione e disponibilità a risolvere queste problematiche relative al comparto occupazionale e dello sviluppo continuo della Calat Ambiente sul territorio Ad aprile i lavori è stato lo stesso Brigadeci che ha esposto ai presenti il quadro generale della situazione di Calat Ambiente e del comparto lavorativo della GIA riportando le notevoli preoccupazioni legate allo sviluppo e alle certezze che la stessa azienda riescono a garantire ai lavoratori Vicinanza e presa di posizione è stata espressa dai sindaci del Calatino presenti che però fanno notare diverse preoccupazioni per la stabilità della gestione della Calat e sollecitano immediati provvedimenti dal Comitato di gestione affinché diverse realtà all'interno di Calat debbono essere chiare sulle loro reali intenzioni e portando all'attenzione dei presenti il grido di allarme di abbandono da parte degli enti locali A tirare le conclusioni sono gli stessi sindacati che intendono promuovere diversi incontri di verifica con gli enti istituzionali, provinciali e regionali per confermare ancora una volta l'intenzione di difendere il territorio e i lavoratori sul futuro occupazionale e hanno incaricato i sindaci di poter anche loro confermare la loro collaborazione affinché ancora una volta il territorio calatino non venga privato e derubato di una realtà come la Calat Ambiente Grazie a tutti